e siamo in diretta voce delle chiese ritorna con la sua diretta pomeridiana saremo qua fino alle 15 insieme per raccontarvi anche alcuni aspetti alcune parti dei lavori sinodali che si stanno svolgendo a torrepellice oggi ci dedichiamo in questo momento con i nostri ospiti a parlare del servizio cristiano di riesi che conosciamo bene di cui abbiamo parlato più di un'occasione raccontando le varie attività e i progetti oggi però ci fa piacere in modo particolare insieme a sarà turno di riforma presentare il nuovo direttore del servizio cristiano di riesi spero di dire bene il suo nome speriamo voce nezzevic perfetto esame superato allora sarà abbiamo invitato il nostro ospite per farci raccontare un po quali sono anche le aspettative del suo nuovo lavoro giusto sì esatto perché dall'inizio di aprile appunto ha sostituito ha preso il testimone da Gianluca Fiusco che ha appunto lasciato la direzione dopo parecchi anni credo una quindicina 14 anni al servizio cristiano e quindi prende un testimone impegnativo però ci raccontava diciamo ha un'attrezzatura adatta per questo ruolo e possiamo chiedergli come come prima cosa come è arrivato a riesi perché il nome non mi sembra proprio riesino no il nome non mi portato a riesi ma ma è mio mia vita mio lavoro e tutta storia ha cominciato 25 anni fa con direttore eliana brante e noi abbiamo collaborato una collaborazione tra chiesa svedese e servizio cristiano e anche chiesa tedesca e abbiamo fatto progetti insieme dopo io ho lavorato anche in servizio cristiano chiesa svedese mi mandato ogni tre mesi quattro mesi venuto al servizio cristiano per una settimana due settimane tre settimane lavorato lavorato in scuola di servizio cristiano su questa storia è molto lunga dopo alcuni anni ho sposato una resina e viaggiato tra svezia sicilia praticamente tutto questo tempo riesi in sé come paese molto io conosco molto bene esatto quindi conosceva già il servizio cristiano anche prima diciamo di essere chiamato alla sua conduzione sì e dopo abbiamo fatto anche mi ha portato miei gruppi da chiesa svedese gruppi confirmanti abbiamo fatto avevo creato un progetto e confirmazione in sicilia è tutto cominciato il servizio cristiano dopo siamo spostati a delfia ma storia diciamo di servizio cristiano conosco benissimo voi c'è qual è un po l'impressione che è vero conoscevi già il servizio cristiano però in questi mesi di direzione quali sono un po le prime impressioni diciamo anche dei fronti su cui magari è necessario un impegno importante se impressione era prima perché una cosa a conoscere servizio cristiano come cliente un altro conoscere servizio cristiano da parte di cucina da dietro sotto prima le prime settimane più o meno e ho speso per analizzare che cosa è servizio cristiano come struttura come organizzazione o 100% di mia energia messo a conoscere persone che collaborano nel servizio cristiano abbiamo avuto incontri personali con ho fatto incontri personali con ognuno per per fare capire chi sono persone che sono dentro servizio cristiano sono collaboratori di servizio cristiano e quale sogni ce l'hanno quale idee loro ce l'hanno e ho cominciato da là per vedere che cosa è servizio cristiano oggi certo come diciamo sovente le strutture sono fatte dalle persone che ci lavorano e quindi gran parte diciamo del lavoro ed è giusto riconoscerlo viene portato avanti da loro esattamente servizio cristiano è una bella struttura ma è una struttura ma è questo che è servizio cristiano siamo noi che siamo dentro e questo è risorsa risorsa più importante e ovviamente da là abbiamo creato una mappa di sviluppo una mappa di direzione perché io entrato entrato senza avere idee chiare che cosa io voglio vedere perché non hanno voluto io non ho problemi a avere idee ma io non ho voluto portare le mie idee io ho voluto guardare dove andiamo e quale contesto di servizio cristiano oggi a riesi e da qua ed è da da là abbiamo creato insieme una una mappa di sviluppo un indirizzo le direzione dove andiamo e abbiamo insieme trovato cioè diaconia contestuale quello che servizio cristiano deve deve essere a riesi e dobbiamo sviluppare questo istituto come istituto diaconale con responsabilità sociale con relazioni umani istituzionali ma anche umani relazioni tra tutti quelli che vivono là in tutti questi settori che noi abbiamo e abbiamo un po di settori perché struttura è molto molto grande devo sempre essere indirizzata a sviluppo sociale essere una parte di paese non un villaggio in sé e questo abbiamo trovato insieme questa direzione e realizziamo adesso tutto quello che abbiamo scoperto insieme si è un percorso che riesi immagino debba fare anche in rete con il territorio che lo ospita perché per non essere un'isola a sé stante per non essere confinata diciamo in una in una parte del territorio è necessario dialogare riesi e accoglienza e foresteria e scuola insomma ha tanti aspetti che coinvolgono già agricoltura è vero giustamente ha già tanti aspetti che già coinvolgono le persone che abitano il territorio si e questo è molto importante a connettere tutti questi settori a un sviluppo sociale e a dare un contesto sociale che contribuisci paese e territorio perché noi siamo indirizzati a non solo comune di riesi anche somattino e anche mazzarino anche delia e questo è per essere un esempio dobbiamo essere un esempio dobbiamo creare qualcosa che può essere un esempio per sviluppare agricoltura ovviamente adesso lavoriamo molto per modernizzare la nostra agricoltura ma questo obiettivo primario è a creare agricoltura sociale e questo abbiamo già cominciato realizzare ecco ci vuole un po di tempo arrivare la ma anche la scuola devo essere una scuola di esempio perché questo è motivo per di esistenza di servizio cristiano vinai è creato questo posto per essere un motore un motore in questo territorio locale e dobbiamo tornare la dobbiamo tornare dove dall'inizio come servizio cristiano essere pensato e questo io vedo come mio obiettivo buon lavoro buon lavoro ci sarà un obiettivo impegnativo ma anche secondo me molto molto realizzante c'è uno poi si si entusiasma no in questo lavoro si dopo io arrivo da un'azione che noi parliamo poco ma facciamo più ma questo è importante in mani quello che diaconia è a fare in questo momento dobbiamo anche noi essere seri in questo se abbiamo un centro diagonale dobbiamo fare le cose e fare bene e questo è una cosa principale per noi priorità sì io mi ricollego una cosa che diceva lui prima e che ha detto anche all'inizio io negli anni in cui sono stato brevemente a servizio cristiano sono stato alla scuola e la scuola è uno dei dei nuclei centrali del servizio cristiano e anche qui la sua esperienza di formazione di professionale le viene molto in aiuto quindi come pedagogista quali sono i progetti rispetto alla scuola del servizio cristiano questo che abbiamo già cominciato a giugno abbiamo deciso insieme con il collegio pedagogico se noi creiamo un nuovo modello della scuola abbiamo cominciato con formazioni degli insegnanti che continua adesso nel settembre e quando i bambini ritornano a una scuola il giorno 15 trovano una scuola diversa anche dal punto di vista fisica se noi stiamo rifacendo aule stiamo rifacendo tutto in intorno per adattare la struttura per questa nuova pedagogia che noi vogliamo realizzare in nostra scuola e questo abbiamo già cominciato bene allora grazie per essere stato con noi voi cenezevic buon lavoro grazie buona continuazione di questa direzione del servizio cristiano dei riesi e grazie sarà per essere stato anche con noi grazie a te grazie a voi grazie a te 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 grazie a te